allora siamo qui dal notaio da col antoni avete appena venduto casa quindi che finalmente abbiamo raggiunto l'obiettivo abbiamo raggiunto come vi sentite emozionati per questo tanto dai finalmente avete realizzato il progetto che che avevate e sono un sacco contento di avervi aiutato insomma fare realizzare questo sogno a fare questo passo grazie grazie mille grazie 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 oltre a ringraziarvi per come diciamo avete gestito tutta la situazione della vendita noi abbiamo cercato tante agenzie per cercare casa come ci siamo trovati bene con voi non ci siamo provati da nessuna parte quindi grazie ancora